musica e salve cipolloni cipollotti e benvenuti sul mio canale qua per la RodExplex e oggi siamo compagnati del nuovissimo e bellissimo video di Titanon Bros episodio numero 3, come vedete ragazzi ho 18 bauli ma questo è un pacco opening molto particolare ragazzi il video non durerà molto per il semplice fatto che ho finito la modalità campagna cioè single player, per giocatore singolo come vedete ho finito questa modalità e guardate cosa ho sbloccato signora e signora ho sbloccato, sta fottutissima piromante e leggermente OP come carta, come eroe e leggermente OP, più di un po' e diciamo che praticamente fa il culo a tutti e per questo motivo oggi voglio fare questo piccolo pacco opening di 18 bauli piccolo eh in ogni caso è free, quindi niente gemme niente gemme da spendere ma vabbè sono dettagli questi lasciando le chiacche da parte, cominciamo cominciamo col primo baule che ci darà delle gemme ovviamente per 5 teoricamente ma vabbè, meglio che niente via allora come primo baule ci da, bene 5 gemme 3 queste carna che lo sto usando che devo dire che è davvero buona come carta molto buona se potenziata farebbe i grandi culi anche per la sua diciamo lunga vita che lo, che gli permette di rimanere sul campo a lungo poi vediamo cosa abbiamo ancora secondo pacco opening eh sì, secondo pacco opening secondo pacco opening un cazzo qua siamo sul secondo pacco da aprire che ci ha dato ben due baule due cose normali due oggettori normali comuni andiamo col terzo pacchetto signor e signori troviamo vediamo un po' due oggettori normali lo stesso un baule d'oro vabbè chiamavamo chiamamolo baulo 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 molto bene bauli vediamo e ben ci da per ben 6 gettone raro di bev non male non male peccato che questa carta non la uso per ora 17 gemme che mi gusta e mi gusta ma vabbè andiamo avanti abbiamo ancora ben 14 pacchetti da aprire quindi andiamo avanti i prossimi due pacchetti ci danno ben gemme si e via vediamo cosa ci da questa uh 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 altri carnak molto molto buono più altre gemme direi anche ho ancora gemme ci darà questo sono sicuro beh è garantito più altri 3 carnak ragazzi più altri 3 carnak direi molto 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 buono e andiamo col prossimo pack opening il prossimo pacchetto è un pacchetto di il prossimo pacchetto è un pacchetto di bronzo quindi apriamolo evitiamo cosa ci da speriamo qualcosa di decente è la madonna adesso si esagera un po' direi carnak per 2 ancora ud 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 mi gusta questa cosa mi gusta ragazzi andiamo avanti diamo questo da questo baule nuovo eroe niente nuovo eroe ragazzi siamo strafortunati strafortunati per sei brian che gettone raro per sei hol holg gettone raro e per sei carnak gettone comune disposto potenzialo a livello 3 si ai me gusta si e abbiamo ancora 10 pacchetti da aprire la cosa mi sta gustando assai quindi il prossimo pacchetto vediamo ok questo non interessa più però beh c'è tornato normale normale pacchetto d'oro ragazzi pacchetto d'oro vediamo cosa si sa 3 2 1 via vediamo 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 nuovo eroe niente nuovo eroe però 10 gemme mi gusta per 8 vediamo ottavo pacchetto qui si da una beata ceppa una beata merda anche stavolta ragazzi non ci sta più uscendo più niente però guardate cosa sta arrivando fra poco guardate oh questo è buono lo sto usando questo eroe molto buon direi però guardate cosa c'è qua ragazzi guardate cosa c'è qua nuovo campione si ragazzi qua abbiamo il nuovo campione fra poco in questo baule qua come vedete è garantita che uscirà questo nuovo campione non so se un campione è più raro o altro ma adesso vediamo 3 2 1 via dai 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 si 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 campione epico ragazzi campione epico campione d'attacco ed è fottutamente forte questa carta questa piromata è fottutamente forte me gusta sai me gusta sai me gusta sai poi prossima carta gemme via no male no male più che altro per le gemme ok niente di particolare andiamo veloce con queste due una beata ceppa a parte il procione come al solito il broccione deve uscire sempre se no ragazzi ricordatevi di una cosa se no non esce il procione il pacco open non si può fare eh si e più ultimo pacchetto che ci da per 5 gemme molto buono direi molto buono andiamo a vedere le carte ragazzi vediamo vediamo nuovo eroe nuovo eroe nuovo eroe con la post potenziarla dove dove sei eccola qua ragazzi eccola qua nuovo eroe bloccato nuovo campione sbloccato campione epico sabrina guardate le sue caratteristiche 24 danni al secondo magico 270 di vita però è fottutamente forte è fottutamente si ragazzi fra i grandi culi comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato di vostro gradimento lasciate un like commentate e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao e state bene ciao ciao